Ballano insieme da quattro anni, sono campioni regionali 1994. Pensa Lorella che questa coppia tutte le settimane fa 600 chilometri per prendere lezioni in una scuola lombarda. Abbiamo appena visto i giri pivot, grazie ai giovani diamo spazio adesso agli adulti. 28 anni per questo cavaliere. Hai sentito come partecipa il pubblico? Golliscio! Ricordiamo intanto Caranaglia che noi stiamo organizzando e preparando il primo campionato televisivo di ballo! E con che coppie! Sarà veramente una bella sorpresa per il nostro pubblico! Campioni regionali 1996, quindi attualmente in carica! Ragazzi scatenatissimi! E' bellissimi! Ed ecco il cambio! E' il momento dei signores! Ricordiamo signores nel ballo, 38 anni per il cavaliere di questa coppia. Ed ecco i nostri giri pivot. Ballano insieme da due anni. Vice campioni regionali 1996. Contrattenti proprio! Che tra l'altro sono tipici della boica. Partecipazione collettiva! E naturalmente guarda ci dice anche...